Una concertazione concordata ma nei fatti mai concessa e poi il problema riguardante la rete di emergenza urgenza nella nostra regione, l'intersindacale abruzzese si rivolge alla regione Abruzzo, al governatore D'Alfonso per muovere delle critiche, dottor Palumbo perché? Noi all'indomani della presentazione delle candidature anche del dottor Luciano D'Alfonso facciamo sottoscrivere ai candidati di presidente un impegno per risolvere alcune criticità del servizio sanitario regionale abruzzese, liste d'attesa, problemi della spesa farmaceutica, problemi della riorganizzazione del territorio e il problema di alcune progettualità che dovevano essere concertate. Ultimamente invece sul discorso degli atti aziendali noi siamo stati costretti a dichiarare lo stato d'agitazione perché purtroppo gli atti aziendali che sono un atto regolamentatorio del servizio sanitario regionale è stato, sì, con noi magari concordato una serie di incontri per cercare di correggere delle difformità esistenti. Ma queste cose purtroppo non sono avvenute. Siamo oggi, a questo punto, stiamo per aspettare le delibere della giunta regionale che avrebbero, diciamo, provveduto a fare degli atti programmatori per ogni azienda con delle prescrizioni. Noi non conosciamo queste prescrizioni. Prescrizione significa delle difformità rispetto a delle linee di guida regionali. Rete emergenza, urgenza, invece quali sono le problematiche? Siccome si parla tanto di ospedali di secondo livello, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, noi vogliamo che la rete dell'emergenza, urgenza, venga ricalibrata alle esigenze di ospedali di secondo livello che avrebbero un compito, quello di risolvere le problematiche importanti, diciamo, le prestazioni di eccellenza. E la rete dell'emergenza attualmente non è pronta a fare questo lavoro.